Ciao amici da Frank Bianconero e si sapeva, no che si sapeva perché i maghi chi ne capisce ovviamente ne sa che dopo quei 20 minuti con l'Udinese non poteva essere totalmente un'altra Juve rispetto ai due anni che abbiamo visto però partiamo prima da un presupposto dove c'è la narrazione e la faziosità allora per me c'è sia il rigore su Chiesa nel primo tempo e sia il rigore di Ling Junior sul giocatore del Bologna che fa una furbata, Ling Junior per me è il rigore ma dov'è la differenza? e che parola ha detto su Chiesa è un duello aereo quando invece quello è andato sulla spalla sui Ling Junior è andato sull'uomo allora già c'è un ambiente un po' tossico se questi fenomeni diciamo che ora commentano tecnicamente dovrebbero commentare la partita fanno sempre queste cose è normale che aumenta nei tifosi un po' di dubbi su questi cosa fanno nelle tv o per chi vanno nelle tv perché se no poi resta il dubbio che magari non sono così lucidi da giudicare la Juve rispetto ad altre squadre l'ha fatto anche con l'Udinese però diciamo che lì è andata bene con l'Udinese cercava che l'Udinese diventasse il Brasile degli anni 80-70 detto questo andiamo alla partita cambiasso cos'è non è più Roberto Carlos non è più Bale o qualcosa del genere giudizi troppo affrettati il Ling Junior ha messo una bella palla ma Kostic magari ci sarà del mercato ancora in corso ma Kostic non può giocare in questa squadra? togliamoci subito il dente Vlauvi ci ha fatto una bella incornata ma io lo criticherò sempre perché per uno che costa così tanti soldi come tanti giocatori io mi devo aspettare di più da un giocatore che perde un sacco di palla fa ripartire l'avversario ha fatto prendere la munizione da un suo compagno perciò il gol va benissimo ed è proprio nel frattempo che è il gol dove c'erano le due punte dove le due punte diciamo hanno riempito l'aria ma ha fatto un bellissimo gol in torsione sfiorando la palla con la tempia e buttarla nell'altro angolo e ha fatto benissimo ha fatto anche col gol sul calcio d'angolo ha annullato purtroppo per pochissimo oltre al fatto che era rabbio davanti al portiere ma non basta perché di buono oggi c'è stata solo una buona tigna una buona... come si dice? un buon furore un po' di più un po' più attenti sulle seconde palle un po' più cattivi un po' più agonistici nel secondo tempo ma è stata una partita tecnicamente inguardabile tanti quando fanno i commenti sui social parlano di fagioli secondo me fagioli è l'unico che abbiamo che mette un po' di... o cerca di mettere sempre un po' di materia grigia perché il resto tecnicamente è zero rabbio che io ammiro sempre come giocatore oggi è stata una delle peggiori partite che ha fatto negli ultimi due anni perciò si può dire tranquillamente perciò io non ho figli e figliastri e non li avrò mai Alexandro è ancora una sciagura e qua la sciagura parte dalla società che ce l'ha ancora e dall'allenatore che lo fa giocare sempre UEA UEA devono metterli in testa che lui c'è una progressione c'è una velocità non c'è tutti questi aspetti tecnici perciò deve essere più coraggioso deve andare più in profondità c'è qualcuno che lo dovrà dire perché il giocatore nel secondo tempo che è stato un po' più più impante più coraggioso ha messo in difficoltà ha messo in difficoltà la retroguardia del Bologna detto questo detto questo non può andar bene dopo il disastro visto soprattutto negli ultimi due anni ma non solo non si poteva ressuscitare dall'oggi al domani se abbiamo una difesa dove Zir perché sembra Ronaldo il fenomeno e Bremer e Alexandre non li fa capire nulla l'aspetto e dobbiamo vi aspetto e dobbiamo cominciare a capire che rosa abbiamo perciò è inutile poi arrabbiarsi ad ogni cosa perché oggi magari non ha allenato Magnanelli ma Allegri è una squadra scarsa di contenuti tecnici mentali di grinta di personalità di autostima o di autoreferenziarsi di essere coraggiosi chiesa anche lui sempre con queste sbracciate sempre braccia aperte si lamenta sempre con i compagni per ogni cosa il secondo tempo ha fatto un po' meglio però quante palle ha perso perché il gioco fa cagare e anche oggi l'ha dimostrato e anche tutto il secondo tempo dell'Udinese quando tutti si sono esaltati perché si era vinto 3-0 ma non si era entrato nella partita a guardarla dove ogni tre passaggi si perdeva il pallone ogni tre passaggi si perdeva un pallone questo centrocampo aveva bisogno di interventi qualitativi non di nomi perché Pogba che in questo momento secondo me noi li vogliamo bene non può giocare nemmeno in Serie B si vede già che c'ha un tocco diverso c'ha proprio una qualità diversa quando la palla la mette a terra poi non ha più la progressione non va più però è sempre illuminato è sempre illuminante fa sempre delle cose buone sulla grinta sul gol che abbiamo fatto e lui che dopo un contrasto vinto dà la palla giusta in profondità per healing un altro magari la dava sui piedi manca qualità oltre a un aspetto di gioco oltre all'allenatore oltre a tutto che sono cose fondamentali manca qualità e mancano giocatori imprevedibili mancano giocatori che saltano l'uomo manca intelligenza calcistica manca soprattutto giocatori forti 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 e noi in questo momento non ne abbiamo perciò farsi le seghe sempre se 20 minuti si fanno bene mezz'ora UEA mamma mia che fulgine cambiasso il nuovo il nuovo detonatore del calcio mondiale perché veniva all'interno così Tiago Motta che ha rinchiuso la partita mettendo Orsolini sul suo piede l'altro esterno sul suo piede il numero 11 che non mi ricordo il nome ha fatto sì che li ha tenuti sempre larghi perciò cambiasso stava sempre a metà strada e sul gol nonostante la grandissima gazzata tra Bremer e Alexandro cambiasso non arriva a chiudere perciò quando si danno giudizi in maniera super positiva o in maniera super negativa accorciamo un po' i giudizi né essere troppo alti né essere troppo bassi dopodiché si può migliorare dopodiché si è vista che c'è stato un furore dopodiché si è vista che c'è stata la voglia di volerla prendere e ribaltare però c'è il Bologna che ha visto una sola partita quella famosa Mezzora Udine e ha messo dei correttivi ha messo dei correttivi poi dopo quel quarto d'ora del secondo tempo Tiago Motta ha messo pure dei correttivi durante le sostituzioni ed è stato di nuovo pericoloso il Bologna perciò non abbiamo idee non abbiamo tanti giocatori diversi da quelli che escano entro sono tutti lineari però che Costici non possa giocare in questa squadra mi vengono dei dubbi se lo dovevano venderlo vendono un problema loro però c'è c'è poco ragazzi c'è poco dobbiamo aspettare dobbiamo vedere quanto tempo passerà per vedere una Juve forte forte da tutti i punti di vista anche dei piedi e anche di imprevedibilità e anche ogni tanto qualcuno che si prenda la briga di fare una giocata che venga bene e che ci possa portare ogni tanto qualcosa di buono se aspettiamo soltanto l'aspetto fisico al furore e alla poca qualità la non capacità di saltare una volta l'uomo l'uomo l'ha saltato una volta in velocità McKennie e una volta in velocità UEA nel secondo tempo né Cambiasso né Junior né Chiesa quasi mai nessuno è andato via perché? perché sono tutti prevedibili palla a lunga e cercare la velocità detto questo speriamo che la prossima vada meglio complimenti al Bologna complimenti a Tiago Motta e buona serata buona serata a tutti